Lasciare sempre il segno, dare di sé l'immagine migliore, ricordare e farsi ricordare. Sono tutte doti naturali delle donne, ma per valorizzare ogni singola scelta e curare ogni dettaglio, c'è al tuo fianco un professionista, che da tanti anni soddisfa ogni esigenza. Infiniti abbigliamento donna, il posto ideale per curare ogni look femminile con i grandi marchi come Fly Girl, BG. Da noi trovi capi sartoriali, accessori, pelletteria e tutto quello che ti occorre per vestire al meglio la tua immagine. Infiniti abbigliamento donna di Carmen Stelitano, Via Peppino Surfaro 137, Angolo Corso Garibaldi, Melito Porto Salvo, Info 346 82 79 529.